Matilde di Canossa nacque a Mantua nel 1046. Suo padre, Bonifacio di Canossa, era un conte di grande potere e influenza, che controllava un vasto territorio che comprendeva gran parte dell'Italia settentrionale. Sua madre, Beatrice di Toscana, era figlia del Duca di Toscana e di una delle più potenti famiglie italiane. Matilde crebbe in un ambiente di grande ricchezza e privilegio. Ricevette un'educazione eccellente, imparando a leggere, scrivere e parlare diverse lingue. Fu anche educata ai valori cristiani, che furono fondamentali per la sua vita. Nel 1072, Matilde sposò Goffredo il Barbuto, marchese di Torino. La coppia ebbe due figli, Beatrice e Bonifacio. Tuttavia, Goffredo morì nel 1076, lasciando Matilde vedova a soli 29 anni. La lotta tra papato e impero. La morte di Goffredo segnò l'inizio di un periodo di grandi cambiamenti nella vita di Matilde. Nel 1077, l'imperatore Enrico IV, in conflitto con il papa Gregorio VII, si recò a Canossa per chiedere perdono al pontefice. Matilde ospitò Enrico a Canossa e lo convinse a sottomettersi a Gregorio VII. Umiliazione di Canossa fu un evento decisivo nella storia della Chiesa e dell'impero. Fu un riconoscimento del potere del papato e un duro colpo per l'imperatore. Matilde continuò a sostenere il papato nella sua lotta contro l'impero. Nel 1084, fornì truppe e denaro all'esercito papale che sconfisse l'imperatore Enrico IV a Roma. L'attività religiosa. Matilde fu una donna di profonda fede cristiana. Fondò numerosi monasteri e chiese, tra cui il monastero di San Benedetto di Polirone, in provincia di Mantova. Fu anche una benefattrice di numerose istituzioni religiose, tra cui l'abbazia di Monte Cassino. Matilde fu anche una figura di spicco nel movimento cluniacense, un movimento religioso che promuoveva la riforma della Chiesa. Matilde sostenne il movimento cluniacense finanziariamente e moralmente, e ne fu una delle principali sostenitrici. La morte. Matilde morì a Mantova nel 1115 all'età di 69 anni. Fu sepolta nel monologo di San Benedetto di Polirone. L'eredità di Matilde. Matilde di Canossa è una delle figure più importanti della storia medievale italiana. Fu una donna di grande potere e influenza, sia politica che religiosa. La sua eredità è importante per diversi motivi. Innanzitutto, Matilde fu una donna di grande coraggio e determinazione. Fu in grado di governare un vasto territorio con successo e di difendere i suoi interessi politici. In secondo luogo, Matilde fu una figura di spicco nella lotta tra papato e impero. La sua azione fu determinante per la vittoria del papato e per il rafforzamento del potere.